qualcosina so su venerdì 13 e ve ne parlerò cercando di non spoilerare fatemi sapere più o meno se avete visto la saga almeno i primi tre se li avete visti giusto per capire non mi ricordo quali ho visto di sicuro ho visto i primi tre perché li ho dovuti vabbè il primo perché l'ho visto 550 volte poi il secondo l'ho rivisto perché dovevo fare la recensione di questo della steelbook di coach media nuova per l'uscita del quarantesimo di io ho messo dentro qua questo è il cartoncino che c'era attaccato dietro alle steelbook vedete edizione limitata quarantesimo anniversario di questo film ma perché è così importante venerdì 13 parte terza vi metto l'inquadratura anche più grande così lo vedete bene perché è così importante questo film ma c'era l'autofocus vi faccio vedere l'edizione l'edizione ha il blu ray e il dvd quindi potete se non avete lettore blu ray potete comunque acquistarla e portarvi avanti vi leggo dietro che cos'ha poi dopo parliamo del film allora praticamente nei contenuti speciali trovate tagli sanguinanti terrore in 3d che è praticamente una interviste ai protagonisti registi eccetera il retaggio della maschera vi parlo un po' di come della genesi della maschera da hockey i racconti perduti di cam blood parte 2 i racconti perduti di cam blood parte 3 che sono dei piccoli cortometraggi a tema appunto venerdì 13 fatti abbastanza bene ma che non danno niente di che sono molto interessanti invece appunto le parti i contenuti interviste eccetera il mio preferito è il primo anche io ho preso l'edizione perché Gesù indossa la maschera per la prima volta bravo allora Marco Bonura cacciato da questa live perché ha spoilerato no vabbè sto scherzando appunto ve lo volevo dire io l'ha fatto lui ha fatto bene allora perché è importante questo film perché è la prima volta come diceva Marco che il nostro buon Gesù indossa la maschera da hockey e scopriremo da chi la prende e come la prende per assurdo i primi venerdì 13 no ma figurati è il bello della live è anche questo cioè poter contribuire a volte vabbè dici una cosa che avrei detto anch'io oppure magari contribuisci con un dettaglio che io non so oppure non volevo dire il primo venerdì 13 attenzione perché questo è spoiler addirittura non c'è Jason nel senso che l'unica apparizione che abbiamo di Jason in realtà è una sorta di sogno di immaginazione non si capisce se è una vera apparizione o no quindi in realtà non c'è proprio Jason quindi scoprirete che occhio perché adesso spegnete l'audio se non l'avete visto perché è lo spoiler ero il primo l'assassino chi commette gli omicidi chi ammazza i ragazzi del Crystal Lake Camp è la mamma di Jason è la mamma di Jason e lo dovevo dire perché poi andiamo avanti a parlare anche del resto ed è importante il secondo film siccome appunto e anche questo è spoiler la mamma di Jason muore viene uccisa come cazzo hanno fatto a fare il seguito? perché poi c'era una diatriba anche per la saga di venerdì 13 il regista del primo e anche altri volevano che venerdì 13 fosse una saga dove ogni anno veniva fatto un film a tema horror ma con storie diverse dove l'unico filo conduttore era appunto venerdì 13 il giorno questo giorno nefasto e invece così non fu qualcuno si impuntò che volevano far tornare la figura di Jason farla diventare un un personaggio horror e quindi la regia venne data a Steve Miner però anche lì in quel caso Jason non era ancora un villain inteso come protagonista del film era inteso come colui che doveva far paura non colui che tutti poi in seguito impareranno ad amare e a insomma idolatrare no? tra l'altro il regista Steve Miner di di questo secondo venerdì 13 parte 2 è anche il regista di che si è portato in quella casa di Warlock e di Halloween 20 anni dopo che in realtà in tutta la saga di Halloween non era neanche così malvagio Steve Miner gira il secondo film dove Jason ha un cappuccio in testa un cappuccio di tela bianca con un buco solo su un occhio mi sembra legato con una salopetta da contadino quindi è molto come dire bifolco nel suo look è il classico bifolco contadino e e niente farà la sua strage di ragazzini e poi si scoprirà che che è uno psicopatico e che ha un altare in cui tiene i resti della madre mezza mummificata insomma tutte queste cose qua poi arriva il terzo capitolo il cappuccio era veramente inquietante non era male questo cappuccio quindi è molto ripetitivo il secondo no? cioè vengono ammazzati i ragazzi però si vede lui si vede il corpo si vede la faccia coperta dal sacco e nel finale si vede anche la testa di di Jason mezza deforme molto ripetitivo è uno il secondo uno slasherone bello ignorante che non ha non è particolarmente figo ma non è neanche male come film è un buon film è proprio uno slasherone cattivo stupido ma funzionale è lo stesso anche il 3 fondamentalmente solo che migliora sotto certi punti di vista venerdì 13 parte 3 finalmente si capisce che Jason è un personaggio come tutti gli altri come Michael Myers come Freddy Krueger cioè Jason deve diventare sta già diventando un'icona e e quindi questo è il capitolo che consacra proprio la figura di Jason quindi è forse addirittura quasi da considerare il primo film in cui Jason è Jason è veramente Jason è considerato veramente qualcosa cioè un villain vero e proprio questo si chiama venerdì 13 parte terza weekend di terrore la cosa curiosa del capitolo 2 il capitolo 3 parte 2 parte 3 è che tutte e due iniziano col riassunto della parte finale del film precedente che io la trovo una roba un po' stucchevole ma all'epoca forse era utile a ricordare un po' come si era rimasti come i riassunti delle serie praticamente ci sono sempre i soliti ragazzi che vanno al campo a fare i ragazzi che lavorano in questo Crystal Lake Camp e vengono trucidati uno a uno quindi è proprio uno stereotipo che si ripete anche nel terzo film solo che il terzo film a suo favore ha il fatto che sono le morti sono estremamente curate estremamente visibili cioè è molto più gore è molto più esplicitato le uccisioni sono proprio violente e splatterose ma non solo c'è anche una componente particolare che questo film è stato girato e pensato in 3D sì perché venerdì 13 parte terza è uscito anche con il sottotitolo appunto in 3D bla 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 insomma è proprio uscito al cinema con gli occhialetti 3D quelli che all'epoca avevano una lente blu una lente rossa e molte scene del film sono pensate proprio per stimolare la visione con gli occhialini quindi ci sono scene in cui Jason spara una una come si chiama un arpione nell'occhio di una vittima ma anche scene non di violenza dove alcuni ragazzi per esempio giocano fanno dei giochi come si dice con le palline fanno volare in aria le palline e queste palline chiaramente riprese dall'alto sembra che vengano in faccia allo spettatore praticamente quasi tutte le morti sono studiate per essere riprese e comunque avere un effetto 3D sullo spettatore quindi è veramente un film che visto senza gli occhialini è un po' strano nel senso che non non ti spieghi certe scelte perché dici ma perché cazzo hanno fatto questa roba strana da un certo punto di vista lo rende ancora più weird più strambo più grottesco vederlo appunto non con gli occhialini 3D e come dire vedere queste scene un po' strane un po' però però alla fine gli donano gli donano mi viene il mal di testa solo a pensare al 3D invece a me piace a me piace quando è fatto bene chiaramente se li tieni su troppo ti dà fastidio chiaramente tutto mi dispiace che l'edizione non abbia il 3D e gli occhialini dentro perché sarebbe stata veramente la chicca definitiva è comunque un'edizione molto bella perché le steelbooks sono affascinanti si vede benissimo il film ci sono 600.000 lingue sottotitoli di tutte le salse i contenuti extra quindi è comunque figa e poi veramente è un un capitolo che tu dici ma perché devo avercelo secondo me ha senso perché comunque essendo un un capitolo particolare che è quasi è quasi un reboot adesso non vorrei osare è quasi da considerarsi vagamente un reboot cioè prendo una saga che è arrivata al secondo capitolo e dico ok però adesso bisogna rimettere insieme le cose e farla ripartire nel modo giusto e quindi il modo giusto è dare un'identità un'iconografia ben precisa a Jason e qui è stato fatto quindi questo secondo me è il senso di comprare questa edizione o quantomeno vederla per cui per chi è che si è fermato solo al secondo field deve assolutamente assolutamente vederla è caratterizzato anche questo da scene sexy ragazze molto giovani insomma mezze nude c'è tanta pelle si vede molta pelle segni al vento insomma sono le cose gli elementi tipici dello slasher il campeggio le mannaie gli arpioni ficcati in un occhio le uccisioni di questo film sono decisamente più soddisfacenti per un amante dell'horror per un amante dello splatter degli slasher questo film in questo film le uccisioni sono decisamente più soddisfacenti di quelle precedenti dei film precedenti la maschera la prenderà da un personaggio che nel film fa uno dei ragazzi che fa più lo stupido che fa gli scherzi che si finge morto che è un ragazzo che vuol fare l'attore quindi si inventa delle scenette dove lui è morto ha degli effetti speciali fatti da lui insomma ci sono dei jump scare tra virgolette un po' ridicoli con queste scene ci sono ci sono addirittura delle scene che si autocitano è talmente un clone ed è forse anche il suo fascino il fascino dello slasher è anche nell'essere così ripetitivo e questo è un film che è ripetitivo rispetto al secondo addirittura c'è una scena identica che è la scena delle chiavi cioè la ragazza corre nella macchina e cerca le chiavi disperatamente e dice praticamente quasi la stessa battuta dice dove diavolo sono le chiavi una roba del genere proprio dice io avendoli visti a distanza di un giorno proprio ci ho fatto caso proprio la stessa identica scena solo che nel primo caso il furgone non parte nel secondo caso parte ma si ferma subito dopo quindi fondamentalmente è la stessa cosa che accade sempre a differenza degli altri due l'ho trovato più finto perché si ha più la percezione che il film sia girato in uno studio e in effetti è girato in uno studio cioè avrete proprio la sensazione che sia tutto un po' un po' fintino il bosco la palude è tutta un po' finta questo qua poi alla fine è il primo film dove appunto oltre all'elemento della maschera da hockey si è deciso che jason aveva delle caratteristiche quindi se nel secondo jason cade in ciampa anche goffamente viene viene spinto soccombe viene sopraffatto nel secondo questo non deve più accadere per cui jason già inizia ad acquisire delle caratteristiche da supereroe di da soprannaturale diciamo non da supereroe caratteristiche soprannaturali come quella di non dover correre da quel momento in poi jason non correrà più camminerà e basta jason appare jason tu corri e lui appare continuamente e tutta la tua corsa è inutile non chiaramente non inciampa più non è più goffo non è più sopraffabile anzi si prenderà pure un'ascia in testa e poi vedrete come andrà a finire insomma diventa inizia ad esserci delle caratteristiche che lo rappresentano quindi è veramente la nascita la nascita di jason il film è andato benissimo al punto tale che pare che all'epoca non avessero più occhialini da distribuire nei cinema perché il film era uscito appunto in 3d è un film per chi ama venerdì 13 imprescindibile ma al contempo non è è chiaramente molto più bello il primo secondo me il primo film è più interessante dal punto di vista registico e anche come trama ha un colpo di scena quantomeno ha un bellissimo colpo di scena è proprio figo mentre questi due film quindi parte 2 parte 3 lo slasher inteso appunto alla venerdì 13 inizia a consolidarsi ad essere ripetitivo ed essere anche il suo bello il suo bello la sua caratteristica quindi un po' ignorante un po' semplice un po' di sesso un po' di morti un po' di di splatter e ciliegina sulla torta un bel villain con le sue caratteristiche diverse da quelle degli altri l'edizione ha delle interviste molto interessanti e questi due cortometraggi all'interno io la trovo veramente molto figa subisco veramente un grande fascino dalle steelbook proprio sono meravigliose l'unica cosa che non mi piace delle steelbook è il fatto che manchi appunto tutte le caratteristiche la sinossi le foto dietro chiaramente si preferisce farle così perché hanno proprio un look bello però effettivamente mi mancano un po' per cui io prendo piego il cartoncino e lo metto all'interno per non perderlo c'è una cosa che mi piace molto mi piace veramente tanto quando la vedo nei film anche in questo film come in altri grandi cult c'è una scena dove la ragazza che deve deve essere uccisa sta leggendo fangoria mi piace tantissimo come il mondo del dei fan dell'horror entri all'interno dei film che poi diventano dei calcio questo per farvi capire quanto fangoria stessa la rivista la fanzine quanto fangoria stessa sia epica come come realtà cioè è così epica che viene che finisce dentro a venerdì 13 parte terza che è un capitolo comunque fondamentale della saga un cult e e rimane dentro al film cioè è pazzesca questa cosa cioè questa rivista ha una una credibilità costruita negli anni nella storia pazzesca addirittura viene citata e non è l'unico cult dove fangoria finisce all'interno del del film quindi è veramente una cosa che a me piace tantissimo vederla perché è il fan perché perché è chiaro che la rivista nasce da grandi appassionati di questo genere è il fan che entra dentro al film quindi sono realtà che si parlano e questa è una cosa che a me piace tantissimo che la realtà produttiva è la realtà del fan o comunque del 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 magazine della stampa che supporta questo cinema che l'ha sempre supportato praticamente entrano in simbiosi e si veda dentro il film è veramente una cosa bella questa era diciamo l'ultima cosa che volevo che volevo dirvi su Jason scusate venerdì 13 parte terza veramente figo edizione meravigliosa niente questo è tutto per per questa questa edizione qua fatemi sapere cosa ne pensate